abbiamo registrato tutte le cagate, ero accesa e fino a lì era pulita ma perché non mette avanti il taglio a Ervati? porca miseria, veramente non ce la porta nessuno, ce la mette avanti la volta ce l'ho su sul furgone, dopo glielo lascio lì al zio Seve, bravo non c'è pulito pulito era pulito solo fino a lì pulito 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 proviamo a andare in là secondo me è pulita di qua proviamo a andare in là 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 Grazie a tutti. Andiamo in su o andiamo in giù? Andiamo in giù. 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 Andiamo in giù.